No, poi faremo anche altri ragionamenti, ma in fuori da questo sì. Non c'è niente di personalissimo. E negli enti si viene eletti, si tratti del lato di partito, si tratti del lato di partito, si tratti del Consiglio Franciano. Si tratti del Consiglio Franciano, devono fare le assemblee, i programmi, i percorsi, le strategie di un partito. Si è fatto abbastanza pubblicità, vada su parola perché adesso le tolgo la parola. A due secondi le tolgo la parola, le ho tolto la parola, sono dittatore, già lo sapevo, le ho tolto la parola. L'acqua di casa sua o l'acqua dell'acqua? L'acqua era bene, allora a pochi minuti per parlare. Sicuramente, grazie per questa gentile concessione.